Nell'ultima partita di questo campionato il Sant'Antonio Abate conquista la salvezza e di conseguenza l'accesso alla semifinale dei play-off grazie alla Coppa Italia conquistata mercoledì scorso. Contro un Licata che ormai non aveva più niente da chiedere, Mister Reciminno fa esordire i giovani come Paolino e dà più spazio ai vari Angelo D'Auria, Matera, Laureto e Nettuno. Mentre Peppe Balsamo schiera 9 undicesimi under con i soli Ortugno e Tiscione Senior esordiscono anche i 94 Faraci e D'Amato. Il Sant'Antonio Abate è partito subito in quinta, all'ottavo Vitale se ne va sulla fascia destra, crossa al centro dove trova Russo. Puntuale l'inserimento del numero 10 Abatese che non ha fallito il gol e ha portato in vantaggio i suoi. Il Licata però non si è arreso e quattro minuti dopo ha trovato il pari con Tiscione, ma la voglia di vincere nei giallorossi è troppo forte e la controrisposta arriva in meno di dieci minuti. Al dicesettesimo Vitale innesca Martone tra le linee, il centroavanti Abatese allora sfugge a due avversari e trova un delizioso pallonetto a scavolcare Zum e sigla il 2-1. Il secondo tempo comincia all'insegna del Licata che si fa rivedere e rende la partita più interessante. Al quattordicesimo così Tiscione accorcia le distanze. Nel giro di quattro minuti poi l'attaccante siciliano sigla il terzo gol e accorcia le distanze rischiando addirittura di ribaltare il risultato. Ma al ventitresimo Martone spegne ogni speranza degli ospiti, sigla la sua doppietta personale e fa impazzire il Varone. Da qui in poi né Sant'Antonio Abate né Licata danno spettacolo. I fari si spostano sugli spalti e i protagonisti della partita diventano i tifosi con cori, striscioni e fumogeni che rallegrano tutto l'ambiente.